bella ragazzi oggi siamo in questo nuovissimo video prima di tutto spero che avete visto il video precedente abbiate capito tutto quanto, vi sia tutto chiaro oggi ragazzi ho fatto quest'altro video per farvi capire nuove cose che ho fatto lì di sera che vi ho promesso allora prima ragazzi che ho parlato con Levi Atano ragazzi siamo riusciti a trovare, finalmente io sono riuscito a trovare il suo canale perché visto che lui non fa ancora video il suo canale su youtube c'è però visto che non ha fatto video è difficile da trovare io ci ho messo circa 10 minuti per trovarlo eccolo qua leviatano mi facciamo sfortunatamente ragazzi visto che ha pochi video mi già visti su un video non teneva ancora grazie il canale però per riconoscerlo gli ho fatto mettere almeno l'immagine del profilo che abbiamo fatto guardate qui infatti lui è solo iscritto a dei canali e ha fatto così io mi sono iscritto poco tempo fa a delleviatano eccolo qua iscritto, tiene un iscritto grazie a me vabbè, fa niente vi raccomando iscrivervi perché comunque ragazzi conoscete già Levi Atano a breve vencerà anche lui a fare i video appena gli arriverà il computer fisso e veresi ragazzi anche lui comprerà il computer e quindi questo qua il link di Levi Atano lo metterò in descrizione il suo canale lo metterò in descrizione se volete iscrivervi io vi dico iscrivetevi perché ragazzi comunque è un bravo ragazzo quindi è spiritoso quindi non vi preoccupate il link del suo canale in descrizione ragazzi allora ragazzi in questo video parlavo ieri quindi con Levi Atano e mi ha detto che la serie di 7day2die lui accetta cioè in pratica la farà insieme a me 7day2die eccolo qua il gioco oggi credo che verrà pure da me e gli farò scaricare tutto quanto non vi preoccupate riguardo invece a Skype giusto ieri sera appena ho fatto il video tutto quanto ho scaricato Skype ragazzi ho scaricato Skype ed ecco qua ragazzi ho fatto l'account quanto è stato facilissimo ci ho messo 10 o 20 minuti pochissimo ci ho messo il lukegamer eccolo qua scontatti e tutto quanto visto che l'ho scaricato da poco ieri ho solo visto se funzionava e basta funziona cioè solo questo volevo dirvi quindi per chi volesse chiamarmi non lo so usare tanto bene visto che comunque l'ho scaricato da poco cambia da bo poi dovrò vedere tutto quanto si devo vedere comunque aggiungetemi il mio nome LucryGamer ragazzi in gioco lo conoscete faccio vedere meglio così perché con sta che mi copre allora LucryGamer eccolo qui il nome oppure così non mi ricordo uno di questi due dovrebbe essere uno di questi due tanto voi lo sapete sapete come fare scrivete o LucryGamer tutto in piccolo oppure in grande è la stessa cosa e mi trovate come sempre là metterò pure Skype il nome di Skype e tutto quanto in descrizione invece ragazzi quindi per 7day2die Leviatano già è nella serie stiamo io a Leviatano se altri di voi vogliono iscriversi cioè vogliono fare la sensima a noi mi raccomando o di scrivere un commento io partecipo e che ne so vi iscrivete a Skype parliamo di quando abbiamo fatto il video oppure mi fate sapere va bene perché se voi non conoscete 7day2die io per ora non posso farvelo vedere almeno oggi perché comunque non so devo capire devo capire una cosa andate a vedervi dei video io vi consiglio alcuni canali dove ho allora 7day2die l'ho conosciuto da da capobastone andate da capobastone e trovate alcuni video poi ho visto alcuni video che ha fatto Luke con Pepo scusate sempre questo qua e poi ho visto altri video di altri ragazzi che hanno fatto in cooperativa eccetera eccetera quindi ragazzi da là potete vedere tutto quanto io ragazzi oggi visto che il video cioè se lo faccio dura a man mano pochissimi minuti vi voglio far vedere ragazzi la prossima volta credo che farò un gameplay domani o un altro giorno voglio far vedere una cosa visto che alcuni di voi hanno Minecraft SP io ho comprato Minecraft sfortunatamente visto che non lo sto ancora usando Minecraft ora cioè io posso usare premium però visto che faccio anche il video per SP per voi tengo sia premium che SP sì infatti non mi funziona tanto bene perchè infatti devo togliere SP e mettere come si chiama premium allora domani ragazzi caricherò forse Minecraft vi farò una costume map che ho trovato molto bella e poi riguardo invece i younger game di Minecraft oggi vi farò vedere una cosa ci sono degli younger game francesi di Minecraft eccoli qua che sono per SP ve li faccio anche vedere ve li faccio anche vedere ve li faccio vedere anche uno molto bello che mi piace tantissimo allora il link descrizione vi porterà in questa pagina ragazzi come potete vedere ci stanno hanno messo nuove mappe elementi questa è nuova eccola qua aspettando tutta questa stavonezza ok allora qui stanno uno due fino a 26 server più uno due tre quattro e cinque allora questi qua sono hg per SP e quest'alti qua invece sono uno due tre quattro e cinque però sotto forma di server dove potete costruire una casa chattare eccetera io vi farò vedere uno di questi qua vi farò vedere il goob battle ragazzi che è uno dei miei riferiti ok allora io vi metterò comunque in descrizione di questi server cioè vi metterò il sito in descrizione di questo qua e da là se volete vi andate a scaricare non ci stanno problemi allora ora avvio minecraft però mi pare mi pare mi pare una cosa se devo cambiare launcher allora lo faccio tutto così senza stoppare il video perchè comunque posso rivedere solo questo qua visto che oggi non ho tempo di fare nient'altro allora allora vanilla anger game perfetto vita addestratore ragazzi guarda vita addestratore non so ora se farò video quindi non lo so vedremo spero di si perchè comunque ho visto che alcuni di voi la seguivano quindi se vi piace comunque la rifare la continuerò scusate allora ok ragazzi perfetto stavo pensando una cosa perciò non sto parlando vabbè allora qui sono tutti i server ragazzi io sono tutti qua sopra eccetera eccetera guardateli io farò vedere questo qua intanto dopo cioè non lo faccio lo faccio più vedere quando allora ragazzi iniziamo da questi quando qui si è scritto quando è rosso premete aggiorna se viene aggiorna non sono più rossi a me sono rossi vuol dire che ora non vanno cioè che stanno ancora offline vedi sono offline questi e quindi non ci puoi giocare ancora allora quando sta scritto anger game è un course vuol dire che stanno giocando i personaggi sono tre persone ancora che stanno in gara e quindi non ci puoi giocare quando ha scritto anger game debut dance 1 minuto quando neanche un minuto voi ci potete entrare e potete giocarci io potrei giocare però non mi faccio vedere questi perché sono anger game normale non mi faccio vedere credo io provo ad entrare però visto che sto registrando comunque laggerà e quindi non so se mi fa vedere vediamo allora login ragazzi sto per il video perché non posso poi vedere niente ok ragazzi scusate se ho stoppato sono andato a vedere i server mentre andava ci ho giocato però ho visto che non andava bene quindi ho lasciato stare vi faccio vedere i server che gioco quasi sempre io perché mi piace tanto infatti ragazzi qui dentro io sono un VIP sono un VIP ve lo giuro allora intanto accedo ragazzi lodging stop ok ragazzi sono entrato come potete vedere sta tutto quanto messo vedete quando esce bonjour vedete che poi ti fa entrare come potete vedere qui dai VIP welcome VIP vedete VIP sono un VIP eh si ragazzi sono diventato un VIP dentro a questo gioco ciao amico mio come stai perché capito già già lì con il video oddio ah no ragazzi quello che teniamo noi in mano io tengo un diamante che sarebbe una K47 guardate sparo la K sparo le cose invece la pala questa qua sarebbe una Dether tipo un cecchino da qua stanno da qui potete prenderli in pratica questa è una specie di zona dove potete colpire i mob che spawnano e divertirvi qui dentro trovate la pala la Dether di qua trovate invece il coso con tutto quanto questi sono i proiettili eccetera ok di là c'è la zona VIP dove io non posso farvi andare perché io sono un VIP ci posso andare mi vio le munizioni amico mio grazie sei gentilissimo inferno 75 che cazzo stai sputando la merda va bene sei gentilissimo però di qua è la zona VIP però io non vi faccio vedere perché posso entrarci ma non posso farvelo vedere di qua stanno 5 portali 1, 2, 3, 4 e 5 allora questo qui il plaza è un postaccio massimo 50 giocatori e ti trovi in un anger game ragazzi in pratica dovete salire in due squadre una rossa e una blu vi danno delle pistole vari oggetti e dovete combattere contro altre persone secondo è eye jacket ragazzi alcuni di voi la conoscono per black ops in pratica qui è tipo black ops solo che devi sopravvivere su una nave e altre cose e basalmente vi danno delle armi come black ops sparate eccetera eccetera lo stesso è per questo di qua solo che qui vi danno qualcosa di più di qua ragazzi è ancora un anger e me potete vedere da sotto vedete this gate dust eccetera eccetera vuol dire che lo stanno ancora buffando poi un altro si chiama zombie infected vedete zombie infected è scritto ha diventato perché perché lo stanno ancora sviluppando è ancora in fase di sviluppo vedete là è entrato un altro VIP quello è un altro VIP ciao gusmaius vedete che lui però è anche io sono sp lui però è premium io sono io sono premium in realtà ragazzi però visto che lo sto facendo un video per sp ho voluto diventare così sono voluto è entrato un altro premium vedete però l'altro premium non è un VIP come noi i VIP ragazzi hanno varie possono avere vari oggetti in più che non vi faccio vedere perché comunque è nulla che vi faccio vedere allora comunque in questa modalità zombie infected dovete sopravvivere ad un attacco contro un VIP insieme a una squadra è tipo left for dead vi create una squadra di 6 giocatori e dovete sopravvivere contro vari oggetti di zombie è anche tipo black ops allora qui invece si è scritto zombie survival zombie survival è scritto endive in pratica ragazzi qua è zombie survival però che stanno sviluppando con che cosa con la modalità estinzione di ghost e in pratica quindi ghost con gli alieni è una moda qui dentro ghost più i survival degli zombie e ok ragazzi questo era il video se volete provo ad entrare qui dentro io entro e ci vediamo nel video ok ragazzi allora vi devo informare di una cosa visto che ho parlato con il c'è il il VIP capo di questo gioco intanto loro che si scrive i messaggi gg eccetera allora vi posso solo spiegare non posso farvi vedere l'angere game però ho detto che posso solo farvelo vedere ragazzi allora qui è scritto warzone entered out single gate devo muovermi ragazzi perché devo fare velocemente basta che allora appena entrate da quel portale avete qui basta entrare in questa porta qui non posso entrare ve l'ho detto andate su qui sopra aspettate due secondi vi farà entrare vedete a me è già scritto a fianco score di tech hills se vedete a destra sulla parete skill code scegliete da dentro entrate e ci giocate facile facile ora ragazzi mi sconnetto perché mi hanno detto non posso giocarci visto che sto registrando se dovete registrare dovete chiedere al vip dovete prima diventare vip ragazzi per diventare vip ragazzi dovete giocarci parecchie volte e se se vi dirà che potete diventate vip ok ragazzi non vedo il tempo di questo per l'ultima volta torno due minuti su youtube e vi chiedo oltre che iscrivermi al mio canale se sono alcune persone sono nuove di iscrivervi anche a quello di Leviatano vedete stanno chiamando a fra poco ragazzi ok ragazzi sono al telefono con Leviatano vi saluta pure beh loro non ci sentono normalmente però stavo proprio con Leviatano per sponsorizzare il tuo canale perché io l'ho trovato si sono uscito a trovarlo ok ragazzi mentre parlo con Leviatano vi faccio pure vedere il canale suo poi ragazzi come vi ho detto lo metterò in descrizione il canale per chi vuole iscriversi già ve lo dice già ve lo dice Leviatano al telefono ok come vedete ragazzi lo sapete già ve l'ho detto prima non ha fatto video però visto che oggi appena arriverà il computer lo farà già gliel'ho detto Leviatano quindi sei tranquillo quindi ragazzi come ultima cosa vi ho fatto vedere come giocare a younger game di minecraft ve l'ho fatto anche vedere vi ho fatto video già vi ho detto infatti se vedete Leviatano al telefono uno già ve lo sta capendo e come ho detto skype ragazzi l'account LucryGamer79 ve lo metto sempre in descrizione allora in descrizione vi metterò il canale di Leviatano l'account mio di skype poi vi metterò younger game server con circa 27 younger game di minecraft per sp e in più vi metterò il canale del canale di Leviatano il mio come sempre e quello di tutti gli altri canali che mettono in volta quindi ragazzi se il video vi è piaciuto come sempre un commentino sotto per vedere se vi è piaciuto pollice in su commentate condividete ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti